... quando lo esposete minimo lo mette un anno ma come si fa? come io lo metto? che me la frega? che non urlo? ma come io lo metto dalla posta? mi spiego che glielo porto? no ma come le fai a mettere molte su P.O. e si pezzi in merda che si scolorisce? non lo decidete perchè sono quelle paliglirate allora per 28 euro no non è cucina perchè stasera ha già guardato 10 euro 15 euro a capoccia lui 28 quando? se no questo non pagava altro si chiama la terrazza no ma la terrazza è chiusa no stasera faceva l'extra ma la terrazza è chiusa un po' di più ma non lo so 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 ma non lo so non lo so ma perchè non deve fare il culo? ma perchè non deve fare il culo? chi sa che perché non deve fare il culo? oh! che cazzo luco? non lo so 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 signori scusi scusi a spegnere a spegnere